Fino al 31 marzo nella Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte è aperta la mostra Tempo di Carnevale a Ivrea. L'esposizione è stata organizzata dal Museo dello Storico Carnevale di Ivrea e dall'Associazione a Margine che ha realizzato il grande plastico di mattoncini Lego. Attraverso costumi, cappelli, maschere, stampe e fotografie d'epoca, la mostra ricostruisce la storia di una tradizione che fin dall'Ottocento porta migliaia di turisti a Ivrea nella settimana di Carnevale.